durante la terza rivoluzione del periodo lunare i signori della individualità hanno irradiato la sostanza che ha aiutato l'essere umano ancora incosciente e in via di evoluzione ad elaborare il germe del suo corpo del desiderio lo hanno anche aiutato ad incorporare questo germe del desiderio nel duplice corpo come abbiamo già visto vitale e denso che già appunto possedeva questo compito fu realizzato durante la terza e la quarta rivoluzione del periodo lunare la volontà antagonista quella del corpo esprime la parte superiore del corpo del desiderio all'epoca in cui sole terra e luna occuparono il loro posto rispettivo e questo fu nella prima parte dell'epoca lemuriana la parte più avanzata dell'umanità in formazione attraversò una nuova esperienza il suo corpo del desiderio si scisse in due vi fu una parte superiore e una parte inferiore all'inizio dell'epoca atlantidea il resto dell'umanità ha conosciuto la differenziazione del corpo del desiderio la parte superiore del corpo anzi detto è divenuta una specie di anima animale ha elaborato il sistema nervoso cerebro spinale e muscoli volontari per mezzo dei quali ha governato la parte inferiore del triplice corpo in attesa che fosse donato agli uomini il corpo mentale che vedremo nel prossimo video da quel momento il corpo mentale si è amalgamato con l'anima animale e ha condiviso il suo dominio sul corpo durante la vita terrestre il corpo del desiderio dell'uomo non ha la medesima forma del corpo denso e del corpo vitale solo dopo la morte assume questa forma durante la vita il corpo del desiderio è uno voide luminoso che allo stato di veglia circonda completamente il corpo denso un po' come il bianco dell'uovo che avvolge il tuorlo nelle persone comuni si estende da 30 a 40 centimetri oltre la periferia del corpo denso il corpo del desiderio è composto di una sostanza proveniente dal mondo del desiderio e tale sostanza è dotata di movimenti di una rapidità incredibile in tale materia non vi è nulla che sia statico quello che ad un dato momento era nella testa può trovarsi un attimo dopo ai piedi e poi subito dopo di nuovo nella testa il corpo del desiderio non ha organi di sensazione come quelli che troviamo nel corpo denso e nel corpo vitale per contro possiede dei centri di percezione che in periodo di attività presentano l'aspetto di vortici occupanti sempre la medesima posizione gli uni rispetto agli altri nella maggior parte degli uomini non sono che dei lievi turbini di nessuna utilità tuttavia questi centri esistono allo stato latente e sono suscettibili di essere risvegliati in tutti gli esseri umani a seconda dei sistemi usati raggiungono dei risultati differenti il corpo del desiderio ha la propria sede nel fegato e arriva a maturità verso il quattordicesimo anno di età nel chiaroveggente involontario o cosiddetto negativo che ha sviluppato la visione con mezzi passivi questi vortici girano da destra a sinistra cioè nel senso opposto a quello delle lancette di un orologio nel corpo del desiderio del chiaroveggente volontario o cosiddetto positivo la cui visione quindi si è sviluppata secondo metodi attivi questi vortici invece girano nel senso delle lancette appunto dell'orologio quindi da sinistra a destra e brillano di uno splendore che supera di molto la luminosità del corpo di desiderio di una persona ordinaria questi centri offrono al chiaroveggente volontario attivo il mezzo di percepire quello che avviene nel mondo del desiderio dove può fare tutte le investigazioni possibili e desiderate al contrario le persone in cui centri girano nel senso contrario alle lancette dell'orologio sono simili ad uno specchio che non può fare altro che riflettere quello che li passa dinanzi davanti in un avvenire ancora lontano il corpo del desiderio dell'essere umano sarà definitivamente organizzato come lo sono il corpo vitale e il corpo denso quando avremo raggiunto questo stato di evoluzione avremo il potere di utilizzare il corpo del desiderio come facciamo ora con il nostro corpo fisico di utilizzare il corpo del desiderio come facciamo ora con il nostro corpo fisico di